da poco. Per ora fanno uso solo i consumatori più esperti, che sperimentano tutte le sostanze nuove e quindi anche la metanfetamina, così come hanno provato la cocaina, il crack e forse anche l'eroina. Probabilmente la metanfetamina è disponibile soprattutto a Londra, ma sicuramente circola nelle maggiori discoteche dei grandi centri come Manchester, Liverpool, forse Edimburgo. Pare che sia comparse in alcuni di questi grandi centri del divertimento. Siamo allo Smithfield Market di Londra. La mattina presto scaricatori e nottambuli si incrociano nelle vie dello storico mercato della carne. Mi hanno riferito che da poco la metanfetamina è in vendita in due locali di questa popolare zona di ritrovo notturno. Nel primo locale facciamo fiasco, davanti al secondo facciamo la coda per ore sotto la pioggia, neanche lì troviamo niente. Eppure, secondo alcuni frequentatori, la droga sarebbe in vendita sotto forma di qualcos'altro. Entrambi i gestori dicono di non aver mai notato vendita di anfetamina nei loro locali e di seguire scrupolosamente la legge sul controllo delle sostanze illegali. Più tardi, Ben rintraccia due consumatori che gli sono stati segnalati da conoscenti. Di solito quando vado alle feste mi faccio un paio di pasticche di ecstasy. Mi hanno offerto della metanfetamina facendomi credere che fosse speed. Le notti da incubo sono incominciate allora. Ho fatto un paio di tiri e mi sono sentito subito molto su di ciri. L'anno scorso ho acquistato un grammo di met cristallino che mi ha durato quattro mesi. In pratica ti distrugge fisicamente più di qualsiasi altra sostanza. Il problema principale del met cristallino è che non puoi prenderlo alla leggera per molto tempo, perché ti distrugge letteralmente. non avevo mai assunto una sostanza che mi facesse sentire così spaventato e così predisposto alla violenza. Ero convinto che gli altri volessero aggredirmi e quindi volevo anticiparli. Questa droga non fa per me. Forse è adattato a chi vuole andare in giro a scatenare risse. Siamo a Natsford Crown Court. Qui si è concluso da poco un processo poco pubblicizzato. L'imputato Gary Chambers si è dichiarato colpevole dopo essere stato trovato in possesso del più grosso quantitativo di metanfetamina mai sequestrato nel Regno Unito. È qui? Sì. Qui dentro sono state trovate circa 10.000 pasticche di ecstasy, che state vedendo. E oltre alle pillole sono stati trovati 3 chili di metanfetamina. Questo pesa 3 chili? No, questo è l'equivalente di un chilogrammo. Con un chilo di metanfetamina si possono fare fino a 10.000 pasticche. Il veicolo in cui è stata trovata la droga era di proprietà di un uomo di Stoke on Trent. Riteniamo che fosse stata prelevata a Liverpool o Manchester e fosse diretta a Stoke o forse nella zona settentrionale dei Midlands. Negli ultimi due o tre anni i sequestri della sostanza in Gran Bretagna sono aumentati vertiginosamente. Ma ciò che allarma gli investigatori è il fatto che una parte dei sequestri, compreso questo, che è il più grande mai effettuato, è avvenuta in laboratori improvvisati. Il problema è che tutti gli ingredienti di questa droga si trovano in altri composti chimici largamente disponibili. La paura è che si diffonda, diciamo, la ricetta di questo tipo di sostanza e che la gente possa quindi prepararsela senza troppi problemi. Trovare gli ingredienti e acquisire la capacità di trasformarli in metanfetamina è spaventosamente facile e purtroppo le autorità possono fare ben poco per impedirlo. Su internet ho trovato descrizioni dettagliate e persino libri di ricette che non hanno niente di diverso dai libri di cucina. Tuttavia c'è una differenza importante. Gli ingredienti della metanfetamina sono molto instabili e mescolati nel modo sbagliato possono provocare grosse esplosioni. Le autorità avvertono che la metanfetamina è in circolazione sotto forma di sostanze stupefacenti di più ampio consumo. Gli spacciatori la vendono tranquillamente ai cocainomani facendola passare per cocaina sintetica e riescono a venderla addirittura allo stesso prezzo della cocaina. Abbiamo trovato pasticche di metanfetamina con il marchio della normale ecstasy. Il simbolo della farfalla per esempio è stato trovato su una partita di pasticche di metanfetamina. Spesso nei locali viene spacciata per ecstasy. Ci è infatti giunta voce di persone che hanno consumato metanfetamina credendo che fosse ecstasy e che hanno subito effetti talmente negativi da non voler più ripetere l'esperienza. Io naturalmente non giustifico l'uso di nessuna delle due sostanze però quello che voglio far notare è che molti ne fanno uso per errore. I più a rischio sono i giovanissimi che probabilmente l'acquistano nelle discoteche. Essendo inesperti non sono in grado di distinguere l'ecstasy dalla metanfetamina. Magari la prendono in un locale, poi vanno a casa dai genitori o peggio ancora in una pensione studentesca dove non c'è nessuno che possa soccorrere. È questo il rischio maggiore. L'abitudine di camuffare la metanfetamina rischia di promuoverne il consumo e questo è fonte di allarme, soprattutto vedendo cosa accade in Thailandia. Assumere metanfetamina consapevolmente o meno è sempre rischioso. La testimonianza di un consumatore che mi ha scritto parla da sola. Spero che questa merda non diventi la prossima grande moda perché sarebbe terribile ritrovarsi in mezzo a una folla di metanfetamina dipendenti. Quella porcheria può uccidere e non solo la persona che l'assume ma anche chiunque entra in contatto con chi ne fa uso. Io ci sono passato e non vorrei mai e poi mai ripetere l'esperienza. Ho buttato via tutto, rifiutandomi di regalarla. Ma un mio amico se l'è procurata lo stesso e una settimana dopo si è buttato da un ponte suicidandosi. Spero che il quadro sia chiaro. Spero che il quadro sia chiaro.